buongiorno come si scompone x alla seconda meno 2x più 1 intanto notiamo che un prodotto notevole abbiamo due termini a quadrato x alla seconda 1 è il quadrato di 1 e abbiamo poi meno 2x che è il doppio prodotto quindi consideriamo facciamo la radice quadrata del primo termine quindi avremo x il segno del doppio prodotto è negativo quindi metteremo meno e la radice quadrata del terzo termine è 1 quindi abbiamo x meno 1 alla seconda controlliamo il primo termine alla seconda x alla seconda il secondo termine alla seconda è meno per meno più 1 e il doppio prodotto è meno 2 per x per 1 quindi meno 2x abbiamo quindi verificato il quadrato arrivederci un altro termine alla seconda è meno per meno per meno per meno per meno per meno per meno grazie a tutti